Noi ci aspettavamo che il Comune dovrebbe andare a prendere il premio alla Roma, invece siamo noi e l'amministrazione che andiamo grazie a un'azienda solo papese a prendere un premio di loro sindaco, di loro sindaco, di loro sindaco, di loro sindaco, di loro Allora, una panamina sfumantizzata, Mendes Sarmac Allora, una panamina sfumantizzata è l'unica in zona, tolgo il frizzo Poi sarà il Presidente Voletta a darci qualche presentazione su questo prodotto che vi posso assicurare anche sulla costiera romagnola vi posso assicurare anche sulla costiera romagnola va, va tanto, va tanto Grazie, grazie Allora Presidente, io rilascio il minofono, nel frattaccio continuo la registrazione Questa è la vostra panamina sfumante e come hai detto tu, la cantina di Ceropata è stata la prima azienda della zona a fare il spumante con il metodo charlat anche se noi usiamo questo francesismo ma sarebbe più corretto di dire il metodo martirotti che è stato l'inventore di questo sistema di strumentizzazione è una panamina che tutti ci invidiano perché ha dei profumi grazie a tutti grazie 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 Grazie